Terza giornata di pulizia organizzata dal Movimento per la Difesa dei Territori. Questa volta si è partita la via Giacomo Matteotti curando la potatura degli alberi donati lo scorso anno dal signor Antonio Amoruso. Lo stesso autore del gesto ha aiutato nel potare e sistemare i paletti che reggono il fusto degli alberelli. Diverse le persone coinvolte di tutta le taccere sociali. Questa volta, oltre che pulire dalle carte e dall'erbacce le strade, si è pensato a resistemare i paletti di legno che reggono i fusti degli alberi che nel tempo si sono rotti e sono stati spostati. In via Umberto, all'inizio del mese di dicembre, una settimana prima che si celebrasse la festa dell'albero, una di queste piante donate alla signora Amoruso era stata spezzata, presumibilmente da alcuni ragazzi che uscivano dalla scuola. Il barbaro gesto aveva creato non pochi clamori ed indignazioni in città. Nella mattinata dedicata agli alberelli, signora Amoruso insieme agli altri volontari hanno sostituito l'albero rotto con un altro. E' stato rimosso quello spezzato che verrà potato e ricoltivato. Il nuovo alberello si spera che questa volta possa vivere la sua vita serenamente senza che qualcuno lo possa rompere o maltrattare. Ancora una volta un nobile gesto di altruismo ed amore verso la città di Nicosia. Si spera che possa essere accompagnato dalla civiltà degli abitanti che troppe volte non hanno rispettato queste piante. I pali divalti e rotti, l'albero spezzato, le aiole rovinate e sporcate non depongono favorevolmente. Ma continuarne la cura e la coltivazione di nuove piante deve essere un volano ed un esempio per tutti nonostante i gesti incivili.